Buon viaggio, ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciotini in studio. Tra Incisa Reggello e Firenze in pruneta, sulla A1, traffico rallentato per materiali dispersi sulla carreggiata direzione Bologna. Sulla variante di Valico, tra il Bivio A1, variante Badia, personale su strada direzione Bologna. Ci spostiamo adesso in A11, tra Montecatini Terme e Pistoia, la presenza di pedoni in direzione Firenze. Veniamo alla Firenze, Pisa-Livorno, alla Strassigna, personale su strada per lavori in direzione Livorno. Lavori a Firenze, alcuni ripristini della carreggiata a seguito di interventi relativi alla fibra ottica in via Piana. Fino a domani 26 gennaio la strada è chiusa da piazza di Bello Sguardo a via di Santa Maria a Marignolle. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie a tutti.